Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Come vi avevo promesso, oggi andremo ad analizzare insieme la poesia 10 agosto di Pascoli. Vi lascio qui sopra il suo video, se non l'avete ancora visto, e adesso iniziamo a leggere insieme questa poesia famosissima del mio poeta preferito. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano, in vano, e gli immobile attonito addita, le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale, D'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. In questa lirica, Pascoli rievoca la propria tragedia personale, l'uccisione del padre che è avvenuta il 10 agosto del 1867, proprio il giorno di San Lorenzo. Questa poesia è stata pubblicata nel Marzocco, il 9 maggio 1896, e poi in Mirice nel 1897. Il 10 agosto, anniversario della morte del padre di Pascoli, è la ricorrenza di San Lorenzo. San Lorenzo è diacono della chiesa di Roma ed è nato intorno al III secolo. Secondo la tradizione, è stato arsovivo su una graticola. Il poeta si rivolge a San Lorenzo e gli dice Io lo so perché tante stelle cadono nell'aria tranquilla. Nei giorni d'agosto, soprattutto nei primi giorni d'agosto, è molto intenso il fenomeno delle stelle cadenti. Va avanti il poeta perché si gran pianto nel concavo cielo spavilla. Nelle calde notti d'agosto, come dicevo, si possono scorgere le stelle cadenti. Le Perseidi sono queste stelle cadenti che prendono il nome dalla costellazione di Perseo e sono proprio visibili nei giorni tra il 9 e l'11 agosto. La denominazione popolare di queste stelle cadenti, non a caso, è lacrime di San Lorenzo. Il cadere delle stelle cadenti da Pascoli è interpretato come un pianto del cielo proprio per l'uccisione del padre. Emerge un parallelismo tra la rondine e l'uomo. La rondine che peraltro ritorna al tetto, mentre l'uomo ritorna al nido. Vi ricordate che anche nel video dedicato alla vita e alle opere di Pascoli abbiamo parlato del tema del nido familiare, che è fondamentale in tutta la poetica pascoliana. La rondine è stata uccisa proprio mentre sta riportando il cibo ai suoi rondinini. Lo stesso è accaduto al padre che viene ucciso mentre sta tornando a casa dai suoi figli. Aveva con sé due bambole in dono. La rondine giace a terra con le ali aperte tra gli spini, come se fosse stata trafitta sulla croce. Vediamo che emerge l'accostamento tra le vittime, la rondine e il padre di Pascoli e il sacrificio di Cristo. Anche l'utilizzo dell'aggettivo lontano indica l'estraneità del cielo alle sofferenze delle vicende umane. I piccoli della rondine pigolano sempre più piano, sono affamati mentre il nido è nell'ombra. Vediamo quindi il valore simbolico, nuovamente, del nido. Il nido che è privato del conforto familiare, in questo caso la rondine, che non può più stare con i suoi piccoli, viene accostata al padre che ha purtroppo dovuto abbandonare la sua famiglia perché non c'è più. L'uomo, mentre torna al suo nido, viene ucciso. Però dice perdono. Nel morire la vittima perdona i suoi uccisori. E anche il tema del perdono è un motivo ricorrente nella poesia del Pascoli. Là, nella casa, lontana, desolata, lo aspetta in vano la famiglia. Ma il padre Ruggero non tornerà mai. Egli, immobile, col suo dito, sembra indicare le bambole al cielo lontano. Gli altri mondi, che sono mondi sereni e popolano il cielo, ignorano il male che invece domina sulla Terra. La Terra è un piccolissimo corpuscolo, è infinitesimale rispetto all'universo intero, dove si concentra però il male. La Terra, infatti, è opaca, non ha una sua luce ed è lontana dal bene. Vediamo dunque un'antitesi con le stelle, che sono luminose, mentre l'atomo, quest'atomo opaco del male, si contrappone all'infinità del cielo. 10 agosto è una poesia che si studia sempre a scuola. È una poesia che però è molto lontana dal Pascoli simbolista e spontaneo. È una poesia più che altro ideologicamente strutturata e che prende le mosse dal dolore familiare del poeta con tutta una serie però di artifici, accorgimenti, rimandi e strutture artificiose. Per certi versi, anche se rimane, a mio parere, un capolavoro. Sicuramente è molto dosata. Questa considerazione è dovuta proprio perché la poesia è costruita su simmetrie che si rivelano nelle varie strofe. Infatti, la prima strofa corrisponde all'ultima, proponendo il motivo del pianto del cielo. Il gruppo delle strofe secondo e terzo corrisponde al gruppo quarto e quinto. Detta così sembra difficilissima, ma ora vediamo insieme le corrispondenze, anche visivamente. Vediamo la prima strofa. Troviamo un San Lorenzo, quindi il poeta si rivolge a San Lorenzo e dice io lo so perché tanto di stelle, eccetera, eccetera. Nella strofa, nell'ultima strofa invece, troviamo il poeta che si rivolge non più al santo ma al cielo e dice e tu cielo. Questa è la prima delle corrispondenze che mostra proprio il dosaggio sapiente del Pascoli. Sempre nella prima strofa, troviamo al secondo verso l'aria tranquilla, mentre al primo e secondo verso i mondi sereni. Questo però dell'ultima strofa. Ritorna al tema del pianto sia nella prima che nell'ultima. Infatti abbiamo un gran pianto nel concavo cielo e abbiamo anche un pianto di stelle nell'ultima. Adesso passiamo all'analisi della seconda strofa ed è la quarta. Vediamo, ritornava una rondine e anche un uomo tornava. Inizia subito il parallelismo tra la rondine e il padre di Pascoli che continua nelle strofe perché poi vediamo il tetto e il nido. Come vi ho già spiegato prima, nido e tetto è come se fossero rovesciati di fatto. Di solito è l'uomo che torna al tetto e invece la rondine torna al suo nido. Ma questo capovolgimento permette a Pascoli di riproporre il tema del nido. In entrambe le strofe troviamo l'uccisero, riferito alla rondine, e l'uccisero, riferito al padre. Nella seconda strofa vediamo Ella, riferito chiaramente alla rondine, aveva nel becco un insetto, mentre il padre portava due bambole in dono. Notate la corrispondenza. Vediamo ora la terza strofa e la quinta. Ora è là, come in croce. Ora là, nella casa romita. Sempre nella terza strofa vediamo la rondine che tende quel verme e nella quinta strofa vediamo l'uomo che addita le bambole. Notiamo anche lo stesso Ejamont. Ancora, quel verme viene teso a quel cielo lontano. E anche nella quinta strofa ritroviamo sempre il cielo lontano. Il nido attende, pigolano sempre più piano i rondinini, così come le figlie di Ruggero aspettano in vano il ritorno del padre. Possiamo dire che gli spini tra cui cade la rondine ricordano la corona di spine che cinge Cristo. La rondine uccisa diventa quindi il simbolo degli innocenti perseguitati e del martirio. Il padre, morendo, perdona i suoi uccisori e ricorda Cristo in croce. Pasquali, in questa lirica, imposta il problema del male in chiave metafisica, quindi va oltre la fisica e anche religiosa. Ogni vittima innocente che soffre è immagine di Cristo e il cielo piange sull'atomo opaco del male. Tuttavia, il pianto del cielo non implica un riscatto. Il cielo appare comunque impotente e non riesce a riscattare così tanto male, così tanto dolore. Si limita soltanto a compiangerlo. Spero che questa poesia vi abbia arricchito e possa essere un valido aiuto per l'esame di Stato. Vi ricordo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al canale. Se non lo avete fatto, correte a vedere il video di Giovanni Pascoli e anche il prossimo video che sarà dedicato al gelsomino notturno.